Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo video sui numeri che passione. Oggi vedremo altri numeri molto particolari che godono di proprietà davvero singolari. Buona visione! Oggi parleremo in particolare di numeri ambiziosi e di numeri narcisisti, di numeri gemelli, cugini e sexy. Se riusciamo parliamo anche di numeri ciclici, fortunati, ma sicuramente parleremo di numeri primoriali. Bene ragazzi, iniziamo parlando dei numeri ambiziosi. Per riuscire a dare la definizione di numero ambizioso dobbiamo ricordare quello che abbiamo visto nello scorso video, cioè il numero n è un numero perfetto se è uguale alla somma dei suoi divisori propri, escluso quindi n. Se consideriamo il resto dei numeri, quelli non propri, la maggior parte dei numeri è noiosa perché sommo i divisori, itero il procedimento, alla fine arriverò ad avere un numero primo e di conseguenza poi come somma avrò 1 e poi avrò 0. Ma ci sono dei numeri particolari che hanno invece una proprietà diversa. Non sono numeri perfetti, vorrebbero essere numeri perfetti, ma purtroppo non ce la fanno. Però, a differenza degli altri, se itero il procedimento della somma dei divisori non ottengo 0 alla fine, ma si presentano altre situazioni un po' diverse. Vediamo intanto un primo numero. Se considero come n è il 25, i divisori di 25 sono 1 e 5. La somma quindi dei divisori è 5 più 1 e quindi mi da 6. Itero il procedimento, calcolo i divisori di 6 che sono 1, 2 e 3 e calcolo nuovamente la somma di questi divisori, ma riottengo 6. Capiamo subito che quindi questo ciclo sarà infinito. Il 25 vorrebbe tanto essere perfetto, ma purtroppo no. Molto simile al 95. Se faccio il primo passaggio e sommo i divisori ottengo 25 e quindi ricapito nella situazione appena vista. Altri numeri ambiziosi sono il numero 119, un altro esempio è il 143, un altro esempio che vi voglio far vedere invece è il 276. Qui se calcolo la somma dei divisori e itero il procedimento arrivo ad avere una cosa diversa. Sommo i divisori e ottengo sempre un numero maggiore. Quindi non si capisce, non si è ancora dimostrato e questa è la domanda se ci fermeremo prima o poi. Abbandoniamo i numeri ambiziosi e passiamo ai numeri narcisisti. Un numero n è un numero narcisista se la somma delle sue cifre elevate al cubo mi dà ancora il numero n. Prendiamo subito un esempio e consideriamo come numero n il numero 153. La somma delle cifre al cubo sono 1 alla terza più 5 alla terza più 3 alla terza e riottengo ancora il 153. Altri numeri narcisisti sono il 370. 3 alla terza più 7 alla terza più 0 alla terza mi dà ancora 370. Troviamo altri due numeri narcisisti che sono 371 e 407. ovviamente per entrambi questi numeri vale la stessa proprietà. I numeri narcisisti sono anche chiamati numeri di armstrong. Nota una generalizzazione dei numeri narcisisti appena visti ci porta a scoprire una nuova classe di numeri che sono i numeri potenti. Un numero n è detto potente se è uguale alla somma di una potenza scelta fissata inizialmente delle sue cifre. Prendiamo subito un esempio. Consideriamo il numero 4150 e facciamo la potenza quinta delle singole cifre. Otteniamo esattamente il numero di partenza. Parlando di potenze possiamo anche definire i numeri simpatici. I numeri simpatici sono dei numeri pari alla somma di una qualunque potenza ovviamente con esponente maggiore di 0 delle loro cifre. Quindi per esempio se consideriamo il numero 43, 43 lo posso vedere come 4 alla seconda più 3 alla terza. Rimanendo nell'ambito dei numeri potenti possiamo dare altre due definizioni. Un numero positivo m è detto numero potente se per ogni numero primo che lo divide, chiamiamolo p, allora anche p al quadrato divide il numero iniziale m. Abbiamo un'altra definizione. Equivalentemente un numero potente è il prodotto di due numeri un quadrato e un cubo. Quindi il numero m può essere visto come il prodotto di a al quadrato per b alla terza dove a e b sono degli interi positivi. Ovviamente possono anche essere uguali a 1. Non facciamo in questo video ovviamente la dimostrazione dell'equivalenza di queste due definizioni. Vediamo subito però qualche esempio. Prendiamo il numero 4. Un divisore primo è 2 e anche 2 al quadrato è un divisore. Consideriamo 8. Il divisore primo è 2 e 2 al quadrato è ancora un divisore. Se consideriamo 9 il divisore numero primo è 3 e 3 al quadrato è ancora un divisore di 9. Altri numeri sono questi 16, 25, 27, 36. Da 1 a 1000 ci sono esattamente 54 numeri potenti. Presentiamo ora i numeri gemelli, cugini e sexy. Partiamo dai numeri gemelli. Considero delle coppie numeri gemelli che sono separati da un unico numero che è tra l'altro pari. Quindi per esempio 3 e 5, la coppia 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19, 29 e 31, 71 e 73. Ovviamente ce ne sono altre lì in mezzo. Sono quindi numeri vicini senza potersi toccare mai. Posso considerare anche questa tripletta 3, 5 e 7 che godono delle stesse caratteristiche. I numeri gemelli sono numeri che possono essere scritti nella forma P, P più 2. I numeri cugini invece scritti nella forma P, P più 4 sono coppie di numeri primi la cui differenza è proprio 4. Vediamo subito qualche esempio. La coppia 3, 7, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 67, 71. Vediamo ora i numeri sexy. Possono essere scritti nella forma P, P più 6 e sono coppie di numeri primi la cui differenza è 6. Esempio 5, 11, 7, 13, 11, 17, 13, 19, 17, 23, un po' più grande 461, 467. Vediamo ora i numeri primoriali. Prima di definire numeri primoriali dobbiamo ripetere che cos'è il fattoriale di un numero. Si scrive n fattoriale il prodotto di n per tutti i numeri naturali precedenti n meno 1 per n meno 2 per n meno 3 fino ovviamente ad arrivare a moltiplicare il risultato per il numero 1. Il nome primoriale arriva dall'unione del nome primo e fattoriale. Diamo quindi la definizione. il numero primoriale di n è il prodotto di tutti i numeri primi minori o uguali a n stesso e si segna n asterisco. Per convenzione intanto si considera 1 primoriale uguale a 1. Poi andiamo a calcolare. Abbiamo che 2 primoriale è il prodotto dei numeri primi prima di se stesso, quindi 2. 3 primoriale è 3 per 2 che fa 6. 4 primoriale è ancora 3 per 2 che fa 6. 5 primoriale invece che cos'è? È 3 per 2 per 5 e quindi otteniamo 30. Osserviamo ragazzi come 3 primoriale uguale a 4 primoriale. L'osservazione da fare quindi che n primoriale è diverso da n meno 1 primoriale solo se n è un numero primo. Quindi 6 primoriale è uguale a 5 primoriale perché 6 non è primo. 7 primoriale è diverso da 6 primoriale proprio perché 7 è primo. Diamo ora un'ultima definizione. Definiamo il numero primo primoriale. È un numero primo che differisce di 1 da un numero primoriale. Quindi si può scrivere come p primoriale meno 1 oppure p primoriale più 1. Facciamo subito un esempio. 5 è un numero primo primoriale perché è dato da 3 primoriale che è 6 meno 1. 7 visto che 3 primoriale è 6 si può scrivere proprio come 3 primoriale più 1. Altri numeri primi primoriali sono per esempio 29, 31, 211, 2309, 2311 e 30.029. Direi che con questo ragazzi abbiamo messo già tanta carne al fuoco. Vedremo i numeri fortunati e numeri ciclici nel prossimo video. Se avete dubbi iscrivetemi, iscrivetevi al canale, mettetemi un like e intanto vi auguro buona matematica. iscrivetevi al canale, mettetevi al canale, mettetevi al canale, mettetevi a